Buonasera, abbiamo il piacere di avere tra di voi Giacomo Doné, che grazie a Ettore che aveva conosciuto il tempo d'ascorso fa. Giacomo è il suo studio di cercatore dei luoghi che hanno conosciuto, diciamo, situazioni non belle che però abbiamo conosciuto, cioè quello che è il problema della pazia, della salutabilità. E questi luoghi, lui come diceva è un ricercatore, è andato in tantissimi luoghi, proprio per capire ancora di più ciò che era prima, nel 1980 della legge Basaglia, che chiudesse questi luoghi, ma d'altronde il suo messaggio è sempre non è cambiare il nome o chiudere un luogo, che si elimina un problema della salute mentale. E quindi stasera faremo un percorso attraverso questi luoghi e il suo studio è la ricerca della situazione. Siamo molto felici di averle stasera e diciamo che è un percorso che andremo a fare in questi mesi prossimi, che riguarda anche tanto l'aspetto salutare delle persone, quindi la malattia, alcune malattie e il benessere dell'esizione. E quindi il nostro benessere che seguiremo questo percorso nei mesi prossimi. Io, già come ci siamo sentiti, uno o due volte per telefono, giusto per programmare questa serata, ma tanti erano pure gli impegni che è stato difficile sentirci più spesso per capire ancora meglio quello che è stasera. Quindi è nuovo anche per me tutto ciò che lui dirà, anche se l'ho seguito su YouTube per alcune presentazioni in alcuni luoghi della Toscana. Quindi ho seguito alcune presentazioni. Quindi auguro a tutti quanti voi un'attenzione particolare, perché anche io, credo che stanotte mi sono peccato, perché io ho rivistruto tutto il mio luogo dove abitavo prima, che era quasi un luogo strano, particolare, perché ero concentrato di case vicino al mare e c'erano due persone a parte, che avevano problemi di salute mentale, ma vivevano nella comunità. E quindi ho fatto, oltre che poi per esperienza di personale, familiare, di alcune situazioni, diciamo che durante l'area crescita mi sono sempre detto, non mi fanno paure pazzi, dicevo, mi fanno paura più di ubriarvi. Perché la pazia, se queste persone sono accorte e vengono inclusi in una comunità, sicuramente non rappresentano un pericolo. Quindi io da questa esperienza ho parlato per due o tre ore, ho vissuto tutto il mio paese dove abitavo io, i luoghi e questi personaggi. Veramente mi sono svegliato di conto e mi sono ritrovato con questa partita. Non c'è se, però ecco, mi faceva piacere che tutti quanti voi potessimo abbracarci a questi problemi, detenendo queste persone, persone che vanno aiutate e volute bene e non emarginate dalla società, da una comunità. Quindi grazie per essere qui, stasera con noi tutti. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie per il cambio e per l'ospitalità in questa meravigliosa fornicia, non c'era mai stato, ma quindi città, bellissima, e dovrò rivedere più volte con il calma, veramente un posto straordinario. E grazie per questa introduzione, almeno su quello che faccio da ormai 16 anni, quindi è veramente un tempo anche importante. La domanda che mi viene stata rivolta di più del tempo è, ma perché un ragazzo, io ho 42 anni, passo 80, quindi due anni dopo la famosa riforma 180, che è quella che ha salgito il superamento dei manicomi, quindi ha trasformato l'uomo che era raccontato come patologia in un individuo, e io ho iniziato a fare una cosa del genere. Io nasco designer, ma lavoro prevalentemente come designer nel campo della salute mentale, aiuto con progetti individuali e progetti commissionati a comunicare, meglio, a diffondere meglio la sensibilizzazione, meglio le storie comunque del patrimonio culturale che noi abbiamo a disposizione, perché l'Italia è l'unico paese al mondo che non ha manicomi per legge, sono stati chiusi appunto per effetto dalla legge 180 nel 13 maggio del 78. Però da dove nasce questa cosa? Nasce innanzitutto da uno stigma. Lo stigma è una conseguenza per amosa del pregiudizio. Io, classe 70, non ho mai, non sono mai tanto in contatto con quello del disturbo mentale, quindi ho sempre pensato che il manicomio è il luogo dei pazzi. Ma dietro alla parola pazzi, chi si nasconde? Che cos'è? Questo è un po' che mi è venuto in mente i primi giorni che sono andato a fotografare questi luoghi. Come ho iniziato a fare questo genere di foto? Allora, io studio design in scuola di Dato e come me stai lasciando fotografia? Quindi il mio primo approccio a fotografia è proprio in ambiente didattico scolare, no? Rimando colpito da queste correnti fotografiche che vanno a raccontare gli spazi abbandonati per farci conoscere degli spaccati storici. La famosa archeologia industriale che va a riprendere tutte queste industrie dismesse per raccontare come si è evoluto, no? Il patrimonio culturale, industriale italiano. Allora, decido di iniziare a raccontare le industrie, quindi mi muovo queste fabbriche abbandonate, però c'è qualcosa che manca, non c'è per l'interesse, per la curiosità che mi permette di andare avanti. Quindi penso, ok, facciamo un ultimo tentativo, altrimenti poi cambio campo fotografico, per fare un'altra ricerca, proviamo col sanitario, io sono della provincia di Firenze, e decido di fare una cita domenicale con un amico a Volterra, sapevo che c'era un amico molto importante, vi diamo un'occhiata, quando mi trovo davanti a questa imponente struttura, a questo complesso così veramente ricco anche architettonicamente, si accende una scelchilla. Ed è venuto e dico, io voglio raccontare questo. Perché? Perché io questo mondo non lo conosco, sono stato colpito a livello emotivo in un modo incredibile, perché fuori da questo luogo c'erano ancora tracce del passaggio dei pazienti, tracce che vi farò vedere poi anche estremamente forti. Quindi scopro che quello che cercavo non potevo trovare delle fabbriche, perché nelle fabbriche, nelle ex ambienti industriali, le persone passavano delle totte ore al giorno. Gli ambienti manicomiali in realtà ci potevano passare anche a vita. Quindi io mi ero trovato in un contesto in cui ero in un luogo invisibile, invisibile, nascosto, pieno di storie di invisibili, che io non conoscevo perché raggruppavo tutto dentro il termine pazia. E allora, folgorato da questa cosa, ammetto un po' insolita, decido di iniziare a scoprire, per me, in primis, che cosa si sceglia per il termine paziente, che cosa sono questi luoghi, questi spazi. Decido di inviare la prima richiesta ufficiale a un manicomio di Lucca, a Giano, e a novembre del 2006, scusate, a primire del 2006, io inizio ufficialmente il mio percorso di ricerca sulle ex manicomio. Il percorso è davanti tuttora, e chiaramente in questi 16 anni è cambiato, sono cambiati i soggetti, è cambiato anche il linguaggio, la presentazione delle cose. In questi 16 anni io ho scoperto circa 18 strutture italiane, io ho fatto soltanto le strutture non riconvertite, quindi tutte quelle aree che non sono diventato altro per effetto della 2080, quindi quelle aree che sono rimaste architettonicamente, contenutisticamente identiche. Quindi, dei 70 manicomio che aveva l'Italia, tre basaglia, i non riconvertiti più o meno, erano circa 25-26, alcuni non sono stati. è stato possibile trattuarli, alcuni mancano ancora, perché la richiesta dei permissi non è così semplice. Io ci tengo a dire che in tutto questo percorso è stato fatto in rapporto con le ASL, in totale trasparenza, per stringere appunto le azioni, le azioni che oggi mi portano appunto a essere all'interno del Network Mente in Rete, che sono il coordinatore della comunicazione, il Network Mente in Rete, che è un network di aziende sanitarie, che fa comunicazione valorizzando il patrimonio psichiatrico che abbiamo in disposizione, quindi biblioteche, musei, attività teatrali, tutte volte alla sensibilizzazione e alla valorizzazione del patrimonio psichiatrico per promuovere il benessere mentale e quindi la lotta allo stimo. Sono nel direttivo della International Association for Art and Psychology che hanno concesso il patrimonio, il patrocino insieme a Mente in Rete, mi occupo dell'immunicazione, di questa grande famiglia che lavora fra psicologia e arte. e questo perché tutti questi anni ho avuto la fortuna di non fare in alcuni luoghi delle fotografie a dei manicomi. Erano le ultime fotografie che si potevano fare in questi luoghi perché vuoi avere il vandalismo, vuoi avere acquisti, comunque ci sono stati tutte le aziende sanitarie e altre realtà, parte dell'istruttura di fotografato non è più accessibile. Quindi quello che all'inizio era nato semplicemente come curiosità, come un percorso fatto per scoprire cos'era la pazzia e cos'erano questi luoghi è diventato un salvaguardare quel patrimonio architettorico e culturale di tutte quelle storie che sono all'interno di questi luoghi. Perché? Perché quelle storie che ho sentito, che mi hanno raccontato, che ho scoperto e che vi mostro una parte perché chiaramente ci sono tantissimo, ogni luogo è un mondo a sé anche se architettonicamente simile, però mi hanno permesso di vedere il mondo in un modo diverso. Oggi non saprei rispondere a che cos'è la pazzia, ma potrei dirvi che la pazzia è soltanto una parte delle motivazioni che riguardano i pazienti in un periodo di questa struttura. Solo una parte. Parlare di manicomi non vuol dire parlare di una storia che non esiste più. Vuol dire raccontare il progresso scientifico, vuol dire raccontare le conquiste ottenute in campo sociale, vuol dire parlare di persone che in quel periodo lì erano messe fuori da un contesto sociale. parlare di un icono è parlare di esclusione. Generalmente. Anche di conquiste. Perché la 180 è un qualcosa che ci deve effettivamente rendere orgogliosi con tutte le imperfezioni che comunque può avere, ma è stata una delle conquiste, delle rivoluzioni più importanti a livello culturale che abbiamo avuto noi in questo Paese. Oggi che ho portato una selezione di scatti correlativi appunto storie che vanno a raccontare in primis un aspetto architettonico che ho diciamo scoperto per poi andare più dentro il contesto umano, andare in profondità in quello che è un altro filone che si nasconde dietro i manicomi che è tutta questa corrispondenza l'epistolario mai spedito dai pazienti. Lo so se lo sapete, però i pazienti alcuni, quindi alfabetizzati, ovviamente, potevano scrivere. La scrittura di lettere era anche uno strumento per vedere un po' come il paziente comunicava, cosa scriveva, se era logico o non logico. Il problema è che questo materiale non veniva mai spedito, cioè in molti casi non veniva spedito, non veniva spedito in altre linee, quindi non c'era un destinatario. Lui lo scrivevano perché la speranza che queste lettere arrivassero ai rispettivi destinatari in realtà venivano messi nelle proprietà di chimiche. Queste lettere rappresentano uno spaccato importante perché ci danno una formula quelle persone che hanno popolato questi luoghi. Dentro questi luoghi non c'era ovviamente il malato ambientale perché ovviamente di patologie possiamo parlare adesso per me nel mio campo, però quando si parla di persone non chiusi negli anni 20, 30, si parla di dissenza politica, si parla di omosessualità, si parla di figli illegittimi, si parla di tutto quello che la società a un contesto sociale non voleva vedere. quello è tutto questo patrimonio umano, un atlante umano di invisibilità che ha all'interno una chiave di lettura che ci fa vedere il presente in modo diverso. Ecco perché è importante per me la divulgazione di tutto questo patrimonio, perché ci permette di leggere il presente. La memoria se non ha un impatto sul presente non è memoria, è storia. La memoria è tutto quella cosa che inizia nel passato ma che continua tutt'oggi a influenzare il giorno in cui viviamo. Quindi l'ambizione ormai la mia parte principale della mia vita è dedicata a questo proprio in virtù di una divulgazione e di una sensibilizzazione sul tema che è quanto mai attuale. Noi abbiamo ancora molte difficoltà a parlare del problema, della criticità, del disturbo, della debolezza perché viviamo in una società che è iperperformante, che non vuole una persona indietro perché siamo tutti uno di uno. Dopo il problema del covid questa criticità è comunque emersa molto violentemente. Quindi ascoltare storie, personaggi, vedere comunque come un tempo queste figure potevano essere umane ci rende tutto questo molto più vicino a noi. Mi auguro anche quel coraggio di poter affrontare tutte queste criticità con molta più energia e determinazione. Questo è quello che credo che questi momenti che stanno scomparendo siano portati a comunicarci, ovvero insegnarci come costruire un futuro diverso. Se volete io passo a mostrarvi delle immagini e a raccontarvi un po' di storie. Dite si spengono luce? Sì. Ok. Dove si spengono? Io sono pieno perché sono basso se mi metto a sedere scompaio un uomo. Allora 2007 un giovanissimo Giano Modoni arriva in terra igure a Cocoleto. Cocoleto è il manicomio più esteso d'Italia con più di un milione di 24 di superficie. Al suo interno 52 strutture di cui circa più di 40 abbandonate e un piccolo numero ancora attivo. Mi ricordo che andai ci sono diverse foto a portato di Cocoleto perché facendo una selezione Cocoleto è il luogo in cui ci sono stato consecutivamente più giorni. Ed è un luogo in cui io appunto sono molto legato perché è il luogo da cui abbiamo iniziato a fare gli inconti pubblici è il luogo in cui ho avuto una vida che purtroppo è scomparsa che mi ha diciamo dato una linea su cosa cercare. Chiaramente quando entriamo in un luogo di 52 edifici diciamo devo fare le foto all'architettura maniomiale il tizio mi dice ma cosa cerchi perché questo riguarda tutto che ci vuole un mese quindi io mi ricordo che dici io cerco gli elementi che possono ricondurre un passaggio umano io voglio fotografare cose che comunichino il passaggio del luogo quindi raccontare cosa faceva la persona in uno spazio uomo. Mi porto in luoghi interessanti. Io da buon designer ho cercato di aiutare sui vari sui canali social la distribuzione di queste storie come vedrete utilizzando degli elementi grafici per rendere più semplici come acquisizione. Questo è un bagno secondo voi che particolarità ha questo bagno? Non c'è mai da scopo? Esatto non c'è mai così non ha le porte non ha le porte perché questo bagno doveva permettere l'ispezione. Questo bagno con questa conformazione architettonica è presente solo nella struttura di Cocolito ed è presente in modalità simili nella lingua quindi questa è un'esclusiva di Cocolito. Questo è l'unico manicomio in Italia che ha bagni del genere. Rendere la storia di questo bagno utilizzando appunto una miniatura è efficace ma non lo è come raccontare il bagno identico però quando è posto all'esterno quindi erano bagni interni questi sono bagni esterni il controllo si esercitava dalla finestrella quindi stesso criterio la persona che è in bagno deve essere controllata perché quello che fa un bagno può essere così come una mania quindi abbiamo una forma importante di controllo il controllo è una costante questi luoghi una costante per rendere ancora meglio l'idea ho recuperato una foto di Giorgio Bergamini nel libro dei manicomedianti genovesi in cui c'è uno scatto autentico fatto quando il manicomio è attivo a bagno con paziente all'interno chiaramente queste storie sono importanti perché immaginatevi una persona comunque che entra in un contesto del genere perché la colista chiaramente anche quei soggetti erano papabili di finire e di coberare queste strutture e si trova comunque in un bagno in cui può essere ispezionato un contesto molto complesso sempre in Liguria questa è una foto molto importante perché un'altra un'altra componente importante della negli ambienti manicomiali è l'identità prima abbiamo parlato di controllo adesso parliamo di identità perché identità perché in questi luoghi i pazienti perdevano gradualmente stadi di identità la prima che va di prima che è quella legata proprio all'aspetto all'abbigliamento all'abbigliamento all'ingresso in quanto lasciarono gli indumenti per prendere quelle divise dell'istituto che hanno tutti i montati di identità questa era la stanza in cui a precedenza dove di seguire una indizia ho trovato ancora i faldoni che lasciavano i pazienti in i vestiti in le ultime cose e questa ne ha colpito appunto proprio anche per un contrasto traumatico estremamente forte vi dico della prima identità perché la seconda identità quella che riguarda l'essenza dell'individuo ho scoperto questa questa perdita attraverso un qualcosa che è molto distante dal dramma manicomiale ovvero un presepe di carta testa fatto sempre a popoleto in un padiglione dopo la 180 fecero un gruppo di lavoro estremamente importante tra infermieri e pazienti e ricreare un estile napoletano alla vita di tutti i giorni in manicomo con lo strumento inaugurato nella prima metà degli anni 80 è stato lo strumento per aprire il manicomio alla comunità quindi alla cittadinanza che visitare veniva a visitare il presepe doveva obbligatoriamente passare dentro il riparto manicomiale che comunque era smesso era comunque superato però comunque entrava in quel luogo che anni prima scansava per lo stimo perché vi dico la seconda identità perché io ho scattato la seconda presepe nel 2007 e le ho perse tutte perché non sapevo della sua esistenza io mi ricordo che questo sotterraneo è buio io provo a star fermo senza cavallette e questo è il mio scatto è successo nel 2007 nel 2015 8 anni dopo ho un incontro pubblico appunto in Liguria una persona che mi dice che aveva scattato le foto l'anno dopo le avevo fatte io e che sarebbe stata ben vieta di passarmi per creare appunto una pubblicazione che portasse al libro del presente quindi lei mi ha fornito queste foto ho fatto una narrazione nuova su quello che era appunto questo interessante patrimonio storico e in questa foto qua scopro qual era il secondo stato di identità che si perdeva nel primo perché se nel primo perdevo l'identità con il mio abbigliamento quindi ero conforme a tutte le altre persone all'interno delle strutture questa è la ricostruzione del plastico del cimitero dove è diviso tra pazienti del esterno del manicomio per centri civili scusatemi defunti civili e defunti pazienti notiamo una differenza fondamentale che è la lapide loro hanno ricostruito questo ricostruito quindi la parte di sinistra con nome cognome è la parte dedicata ai defunti civili la parte di destra è nei punti del manicomio molti di questi perdevano addirittura l'identità quando appunto due non questo presepe è un'opera collettiva unica in Italia ovviamente purtroppo ovviamente purtroppo non è sconostibile recuperarlo però siamo stati contenti perché attraverso questo lavoro abbiamo fatto di sensibilizzazione su questo presepe nell'altro nel manicomio in igore quello di Genova IV è stato ricostruito quindi in un certo senso ha trovato una vita nuova per raccontare una modalità diversa quello che era quindi utilizzare un'attività come strumento per avvicinare le persone agli ultimi questo era un interessante concetto ed è stata un'esperienza bellissima lavorare sulla narrazione del presepe perché mi ricordo che racconti un aneddoto interessante io mi sono sentito telefonicamente con il coordinatore che purtroppo è defunto fare questo lavoro è molto brutto da un lato perché ti porta a relazionarti con persone che vivendo quegli ambienti lì sono già ansiani quindi ti fa veramente sentire sulle spalle un peso del tempo che è inesorabile non mi cancella la memoria orale quello che comunque ha vissuto e ti può raccontare una volta è deceduto che il racconto si perde io mi raccontavo una verdura fantastico in cui questo presente appunto ha avuto una genesi molto complessa perché c'è stato questo gruppo di lavoro con i pazienti ricreando le scene di vita tutti i giorni hanno rivissuto il dramma della rilusione quindi hanno abbandonato in massa la lavorazione e sono riusciti a portare a termine grazie all'aiuto di un artista che era appunto alla brava manicomio come regalati e sono riusciti a portare a conclusione quest'opera Tommaso Molinari che mi raccontava una cosa moltissima che lui non ha sempre gocciato tutte le sue proposte perché questo presente veniva fatto collettivamente quindi una proposta non lasciava fare e doveva essere portata all'unanimità Tommaso Molinari convintissimo all'idea del sevolo e dice al gruppo di lavoro perché non vestiamo Giuseppe e Maria vogliamo dei pazienti fantastico è un chiesa che dice no perché loro non erano pazzi questo ci eseguisce comunque un peso anche del rispetto anche un peso dell'altura che queste persone davano comunque anche al contesto religioso anche al contesto anche sociale del manicomio era molto molto buffo il racconto di Tommaso su questa sua grande attenzione usciamo dalla Liguria andiamo in un'altra architettura unica andiamo in Toscana Siena questo è il paviglione Conorli l'unico panottico in chiave sanitaria che cos'è un panottico è una struttura architettonica circolare che permette a poche persone il controllo di tutte le persone fanno un ottimo controllo perché qua dove c'erano questi alberi c'erano gli infermieri e con il campo visivo riuscivano a controllare tutte le celle queste celle ci stavano i clamorosi persone azionate complesse questo è un interno di una cellula del corpo allora se il paziente viene la cellula e viene controllato dall'infermiere l'infermiere a sua volta è controllato dal medico che deve assicurarsi che gli infermieri facciano il loro lavoro di sorveglianza all'area ma chi controlla il medico che controlla gli infermieri e a sua volta controlla gli pazienti è una macchina questa macchina che ovviamente è chiusa quando è attiva se vedete qua c'è un piccolo solco c'era un disco che ruotava e che doveva essere firmato a cadenza retolare quindi quella firma certificava che il medico passato da quell'area ha verificato e ha firmato quindi notate tutto è una sequenza di controllo e alla fine tutti sono controllati da una macchina questo non è molto distante dai tempi del presente in cui gli algoritmi incidono nella nella nostra vita digitale ecco perché questi raccordi sono importanti ci fanno vedere del presente in un mondo diverso quello che vi ho mostrato è questo adesso abbiamo visto questo lato del conno questa scritta che ho trovato sta nel lato posteriore e l'aver scoperto dei segni che i pazienti hanno lasciato nei luoghi mi ha fatto pensare all'importanza della cerca di questi elementi del linguaggio proprio per dare una connotazione a questi invisibili che popolavano questi luoghi in questo in queste decisioni in questo graffito che vediamo qua ve lo leggo perché alcune cose si leggono ma è un po' piccola alla distanza c'è scritto viva Gesù viva la libertà e la giustizia viva Maria viva Dante Alighieri e viva Lenin li abbiamo presi un po' tutti così siamo raccomandati a tutte le figure importanti no? questo ci restituisce appunto un'identità in qualcosa e su questa identità poi io ho cercato di approfondire andando oltre a raccontare i luoghi a raccontare quello che rimane del passaggio umano in termini di linguaggio questo che vedete è Volterra che apparentemente possono sembrare degli scarabocchi in realtà è riconosciuta come un'opera d'arte un'opera di arte fra le più importanti d'Europa e lo conoscete? graffito fantastico è un'opera un graffito fatto da paziente della Mettiva questo Fernando in arte noff fatto per tutte le pareti esterne 180 metri di pareti esterne del paviglione fermi il paviglione giudiziario del manicomio di Volterra lo è finito dentro per offesa al pubblico ufficiale romano è finito in un paviglione giudiziario quindi in quello che poi saranno gli OPG diciamo altri luoghi che ne ho visti due chiusi nel 2015 è trasformato in rense però lui finirà la sua vita poi nel manicomio di Volterra e lui ha fatto questo libro di Fiera in parte tradotto in parte no e racconta cose dalla fantascienza alla poesia alla cose lui è gustofedico ovvero scrive da sinistra verso destra quando va a capo scrive da destra verso sinistra e questa foto ha una particolarità è sempre importante questi cerchi vuoti questo è un dettaglio estremamente di volità estremamente importante perché questa parte di graffito era intrusività di una panchina dove le infermiere mettevano i pazienti catatonici che stavano fermi e i mannetti mentre incideva intorno alla testa quindi quello spazio vuoto era uno spazio occupato da questi pazienti e lui saliva sulla panchina e incideva intorno alla testa questo è il pezzo del graffito che sono riusciti a recuperare una onus inclusione graffio e parola di Volterra nel museo dedicato perché non tutto purtroppo era possibile salvarlo del graffito però questa cosa ci restituisce l'importanza della comunicazione qua siamo di fronte a un'incredibile necessità di comunicare lui è diventato questo artista importante nostro perché un medico ha intuito che dietro a quella comunicazione ci poteva essere qualcosa altrimenti chi avrebbe permesso a un paziente di incidere con la figlia del parciotto su un muro quindi questo rapporto interessante anche di creativo di far esprimere la creatività ha permesso oggi di godere di questa pratica in culturale l'art brut è quella corrente artistica spontanea fatta da persone chiave di criticità tutta l'arte creata da influenze che hanno problemi mentali ex utenti fa parte di tutto questo mondo artistico che si chiama art brut quindi arte spontanea non arte terapia indotta ma è proprio istintiva questo è un esempio incredibile appunto di arte che è spontanea scrittura come elemento che crea identità quella che state vedendo è un reperto d'archivio che ho fatto a Parma fatta da una paziente che nei pochi anni di indigenza del malicomio ha prodotto più di 500 contenuti testuali lei ha un incredibile vocabolario sto lavorando proprio in questo periodo sul di lei per creare un lavoro verticale sulla sua produzione artistica diciamo perché questo è un po' a cavallo tra la necessità e la necessità di comunicare e l'espressione artistica ma dietro queste parole che buona parte possono essere anche traducibili quindi non sono scritte in italiano distante dal nostro abbiamo un racconto come ripeto importante per la definizione di identità vi ho portato queste appunto sono le lettere dei pazienti vi ho portato una selezione di lettere di analisa la paziente che è deceduta a migliaia di 70 nel manufattio di colorno le ha scritto soltanto 4 lettere dal 38 al 41 io ho portato degli estratti questa è una lettera del 38 che si rivolgeva a casa giustificandosi del fatto che mi scrive con continuità dicendo benché ero malata potevo scrivermi ma il tempo non è che mi mancava perché ero effettiva allora se lui diceva la lettera io avevo una grande paura e si amasse anche lui quindi lei pensava di poter passare la mattina andando le lettere era una cosa molto molto interessante nell'interpretazione poi della persona nel 39 invece esprime le difficoltà di un'opera di manicomio per dire sono assai stanca di stare qua nell'ospedale di psichiatrico perché invece di stare meglio sto peggio perché quando sono calma mi fanno agitare notate la calligrafia che comunque è legibile ha un po' di difficoltà ma per le persone comunque alfabetizzate all'epoca calligrafia era una materia scolastica quindi non c'era chi scriveva male se sapevi scrivere era impensibile questo è un passaggio che io amo l'inferno è rosso il manicomio è giallo come Francia e Parigi quindi notate la sottigliezza della mia l'inferno è rosso il manicomio è giallo il giallo è una componente cromatica del rosso sta dentro il rosso il giallo come Parigi sta dentro il periodo della Francia questa è una sintesi fantastica di come il manicomio si è dentro l'inferno esattamente come Parigi sta dentro la Francia detta detta in pochissime parole fantastica qui come potete notare la calligrafia è diversa siamo nel 41 questa è l'ultima lettera che ha scritto quindi non si rivolge più a casa è l'oggetto dell'amore è il direttore quindi chiedi appunto scusate il direttore questo è interessante perché sembra che l'amore sia il contenuto uno strumento per galleggiare per rimanere in piedi per avere un scopo anche perché le lettere di Annalisa sono lettere che scrive a una figura amata che appunto non si fosse ricostruire ma non gli strumenti per ricostruire che fosse l'ultima venendo non probabilmente non ricambiato l'amore sposta l'attenzione sul direttore e scrive il primo febbraio del 41 io sono già stanca di stare nel manicomio però si mette tranquilla si rivolge alla sorella perché ho intenzione di scusare il direttore del manicomio però non sono sicura di questo se lui mi vorrà io aspetto se mi tira fuori lo sposo altrimenti rimango qui fino nella vita morirò per lui basta Annalisa purtroppo morirà veramente nel manicomio di Romero negli anni 70 per darvi un'idea di come è importata la calligrafia dal 38 al 41 vi ho messo a fianco lui del suo re cambia completamente il senso dello spazio cambia completamente la modalità bulimica quasi di scrittura cerca di pienare tutti gli spazi a disposizione come se quel foglio fosse l'unico elemento ma in realtà era l'unico elemento che lei aveva per comunicare con l'esterno una cosa meravigliosa l'hanno fatta ai social perché io un giorno cercando il nome sul Facebook della paziente ho trovato un gruppo sai quegli sei di color non sé dove c'erano delle infermiere anziane che ne parlavano e quindi ho avuto il piacere di conoscere delle infermiere che avevano conosciuto lei di versione lei si è morta negli anni 70 alcune infermiere giovani hanno avuto modo di poterla conoscere e mi raccontavo di una persona estremamente ingenua con un accento un po' inglese perché aveva le parenti che venivano in Inilterra che sembrava un po' olio di stagno olio quindi quando gli spedivano la cioccolata la dividiva con le infermiere fondamentalmente un animo leggero mi scusi che età aveva questa anatisa quando è entrata e poi quando è desiderata allora per me è molto difficile avere queste informazioni in quanto non essendo morto da più di 70 anni in copertura la dryas quindi io non ho un modo di saperlo più o meno le posso dire dalle foto comunque le infermiere erano delle ragazze intorno 28 25 28 e lei in quegli anni della foto era già sui 60 65 quindi all'epoca probabilmente del testo poteva avere intorno a 40 35 40 e fa molto è morta negli anni 70 e dovrebbe essere morta circa 70 anni quindi è parata prevedere intorno tenendo un po' sulla parte più o meno perché purtroppo non posso accedere direttamente a queste informazioni io ho fatto la digitalizzazione quindi non ho accesso a la planina e non è un'analisa e non è tutto finito perché per divulgare tutto quello che riguarda i dati sensibili queste persone devono essere passate 70 anni dal decesso 70 anni dal decesso anche dei terzi che lei in questa lettera per dire parla con la sorella se la sorella fosse morta da 65 anni non posso divulgarla in quanto all'interno del documento c'è un terzo metterato quindi non è più o meno intorno in quell'altro 30 anni lei era un'anziana anziana dopo il mese del manicomio può essere anche 60 50 però più o meno se mi ricordo un po' non sapevo neanche l'infermiera dell'età precisa perché quando loro sono entrate lei dopo era all'inizio di una vita giovane niente e raccontare appunto il manicomio è anche un raccontare di una vez in questi ultimi scatti che ho preparato vi voglio raccontare il presente lo so questa non è una foto del presente ma è una foto che ci insegna non solo a guardare il presente in modo diverso ma anche contiene una storia che è un'ermi intertuale la foto in questione non l'ho scattata io l'ha fatta in certo ragazzini negli anni 20 nel manicomio di Monbello in Lombardia immagine fantastica dei pazienti che la rubano scopro vedendo questo album che è conservato dall'azienda ospedaliera Sardini che il lavoro fotografico è stato fatto sotto il fascismo e no non è un luogo così perfetto era un'imposa perché questo reportage era un reportage probabilmente condizionato dal regime e quindi non poteva venire fuori che il manicomio fosse brutto sporco e pericoloso doveva essere un'opera maestrua e quindi il sapere che comunque la fotografia blocca un attimo e il tempo che succede dopo arrichisce o cambia la storia per l'attimo oggi ci permette di vedere questo in un modo diverso e mi ricordo che quando feci questi scatti a questo album un muro digitalizzato mi misero in contatto con delle memorie orali che hanno veramente lavorato le memorie orali sono le persone che possono raccontare perché sono protagonisti dell'esperienza nel manicomio hanno lavorato all'interno del manicomio nel manicomio che sono andato ho fatto delle macchine ed è interessante quanto la parete che divideva il muro da sani e malati e normali e pazzi in realtà non invadeva soltanto queste due forme specifiche ma un infermiere che era uno nello stereotipo normale ma lavorava nel mondo dei pazzi quindi erano entrambe in realtà subiva lo stesso stigma che subivano pazienti e raccontò che lui accompagnava un manicomio comunque superato i pazienti da un'unione bella e molto bassa con parte di convertita a un campo sportivo e per farlo c'è un passaggio sotto la strada quindi loro si camminano adesso lo utilizzano gli studenti per andare in città delle aree di un motivo di un numero scolastico ma quel passaggio sotto la strada non era fatto per velocizzare il percorso era fatto per non far vedere i pazienti al mondo esterno lui loro passavano accompagnandoli negli stessi luoghi che comunque avevano un'operazione di esclusione quindi loro vivevano nello stesso in un'operazione di esclusione e lì si fanno il matto a che serve escludere un contesto del genere a niente che c'è è un contesto che esiste deve essere comunque integrato non serve perché loro stessi li educano comunque esclusi no? passavano sotto la strada perché all'epoca era fatto per non passare e c'è un racconto fantastico che mi colpì in un modo incredibile di quanto antropologicamente la figura della folia fosse un qualcosa che educava fino dall'infanzia ad aver paura del pazzo la persona che mi accompagnò a fare queste foto mi disse io la bambina eravamo fuori dalla casa gli dovevamo passare città fila per due quelle case che grigie erano matti di Monbello che giravano per il paese noi non avevamo l'uomo nero per spaventare i bambini avevamo i matti di Monbello quindi il matto che ti viene a prendere era lo strumento per far paura al bambino questo educa educa ha una visione ha un noi e il loro è estremamente interessante questo passaggio torno a Pogoleto torno in quell'ottano nel 2007 quando stanchissimo mi dicevo Ettore io mi appresso ad arrivare a un treno a Pogoleto per le nove quindi parto con un regionale assorbissimo alle quattro faccio un viaggio della speranza arrivo a Pogoleto arrivo al Manicoglio e la guida mi fa fermo niente foto adesso niente foto perché vedrai una scena da Panicogno e io ho già un po' nel panico nel 2007 le mie prime esperienze scotabine e niente era semplicemente una distribuzione di sigarette euro quindi c'erano tutti questi pazienti infine a questo centro erano bellissimi in là dove c'era il signore bello unziano con la barba bianca molto tenero perché era veramente lento molto sereno 2 euro e una sigaretta dentro di lui un ragazzo abbastanza scarico 20 euro in un pacchetto di sigaretta finisce di seduzione io ignaro gli avvicino da qui la fine cosa ne è io non so dell'ambiente ma questa è l'ingiustizia mi fa no Giacomo no ma le regole sono tutte diverse allora se io do a tutti 10 euro e 10 sigarette succede che quello lì quello male lo vedi quello lì c'è certo e arriva quest'altro quello giovane gli batte sulla spalla gli fa darmi soldi e sigarette che lui gli dà capito? allora se io gli do il minimo per non farselo rubare una sigaretta la fuma subito e nessuno gliela frega se io gli do il massimo per non rubare all'altro lui si vede nel pacchetto e non ruba nessuno meccanica che ha la sua logica però lui mi domanda ma perché quella persona è lì mi ricordo che lui mi rispose lo sangue di una foto di delle sue ore con dei bambini il signore di 40 anni scaltro era uno stato uno dei tanti bambini abbandonato le famiglie di mio necone lui aveva avuto la sola colpa di essere una famiglia povera detto scioccolò ma Matt è andato a lavorare fuori riuscito ad andare a lavorare fuori e cosa è successo che lui lavorava al doppio degli altri veniva pagato alla metà perché non aveva gli strumenti per difendersi da quella cattiveria che il mondo dei normali aveva perché lui l'ha riusciuto in un enorme eterno bambino là dentro è riusciuto in un contesto devastante difficile critico ma fondamentalmente un contesto che non l'ha mai messo di fronte a quello che era il mondo esterno quindi la gente di questo centro di un uso ha riuscito a difenderlo perché l'avrebbero massacrato fra virgolette questa storia mi ha fatto pensare ma quelle mura in un tempo sono state costruite per difendere utopisticamente il mondo dei normali dal mondo dei matti adesso difendono l'imposto adesso difendono i deboli da un mondo sciacallo che è molto più arrabbiato molto più fanelico e molto meno sollevante quelle erano le persone di cui il mondo di un'orbanico aveva paura ricordiamoci quelli erano i pazzi che nei racconti delle mamme andavano a prendere i bambini e questo mi fa ovviamente farvi vedere a tutti un presente diverso sempre con questa scatto di google che riguarda una scena di notizione voglio raccontare un altro aneddoto interessante di genoa quarto in cui i pazienti uscivano perché il centro di urno è dentro il manicomio il manicomio di genoa quarto è uno dei più belli che ho visto nella vita totalmente riconvertito con oasi di creatività incredibile ci sono laboratori di ceramica dove utenti dove lavorano sia ex utenti in altre persone perché l'oroscopio non c'è distinzione quindi là si perde e si respira nel stale di integrazione e dipendenza la c'è il centro di urno che purtroppo durante il periodo del lockdown chiuse ovviamente erano tutti chiusi però qual è la stessa la città che le persone che erano dentro quel manicomio dentro il centro di urno di quel manicomio erano persone che erano state rinchiuse nel manicomio quando era attivo quindi ritrovarsi chiusi di nuovo nella stessa struttura in cui loro hanno passato degli anni drammatici dell'esistenza ha acquisito i problemi ha fatto di emergere le città portando quel lockdown ha un elemento scatenante di tante felicità e mi ricordo come se mi diceva rivivono quello che hanno vissuto quindi quanto quella realtà lì impatta impatterà sempre la testa del pezzo è indelebile indelebile come indelebile il rapporto che hanno l'infermiera con i pazienti mi ricordo un intervista che fece con uno di Siena mi disse ma questo e quello non è un ospedale il marico non è un ospedale perché un ospedale c'è una legenza lunga o piccola che sia 3-6 mesi un anno poi esca io sono entrato a lavorare c'era un tizio quando sono entrato in pensione lui era sempre dentro quel tizio è stato ricoverato dal mercol di Siena all'età di 12 anni perché lo zio di questo bimbo tornava la caccia lasciò il fucile carico il fucile e andò a parlare con la sorella quindi la madre di questo bambino il bambino vedendo il fucile lo prese per giocare partì un colpo non colpì nessuno ma per lo zio la mamma era pazza perché gli voleva guazzare lui è andato in maniconio a 12 anni ci è morto a 92 e dentro giustamente diceva cioè questo è un attesto pesce non puoi non avere l'accordo questo ti dà un'ottica a quello che è il contesto il manicomio concludo con questo scatto che è il manicomio di Boghera il manicomio che ho visitato di più nel corso del mio percorso ho visto 5 volte questa struttura qui doveva soggile un museo purtroppo non siamo riusciti e scopo la storia di Giacina e Mario perché gli ho fatto vedere una stanza delle feste ovviamente abbandonata ma nella stanza delle feste quando nacquero le parti promiscue ovvero le spazi in cui maschi e femmine si trovavano insieme Giacina e Mario erano due pazienti che si innamorarono la loro storia fu incredibile perché si sono messi insieme fidanzati contando tutto lo stigma si sono addirittura sposati e mi ha raccontato la guida loro erano muffi ma dovevi vedere che stanno incredibili e poi si è ammalato Mario e Giacina Monica e Giacina si ricordano perché vedo un po' questa storia perché la guida mi disse che loro erano un esempio di come la normalità che distrugge alcune persone a loro inesaltare scusate è molto forte raccontare questa storia per la loro racconti uscirà in un libro adesso che ho fatto e questo è un modo per tenere vivo il loro grandissimo coraggio che è riappropriarsi della normalità grazie grazie